cari amici di fano tv ben trovati in questo approfondimento in studio vi parliamo di una festa di un quartiere estremamente vivo e vitale quello di centinarola ed è grazie all'associazione culturale viviamo centinarola che questa sera vi presentiamo la sagra della trippa e dei fagioli io lo dico in italiano perché il mio vernacolo fanese non è un granché ma vi prometto che prima della fine della puntata riuscirò a dirlo diamo subito il benvenuto ai nostri ospiti allora ben trovata giovanna selis grazie e benvenuto a michele cenci buonasera allora parte questa iniziativa straordinaria ma sarebbe più corretto dire che ritorna perché in effetti questa festa già esisteva vero giovanna sì la festa di di centinarola è esistita da tanti anni e prima si chiamava festa della solidarietà dall'anno scorso abbiamo cambiato il nome e gli abbiamo dato un nome un pochettino più enogastronomico sulle nostre specialità proprio la trippa e i fagioli che è una specialità anche proprio del territorio quindi volevamo dargli un tocco diverso e l'anno scorso per il primo anno è stato comunque una grande ripartenza dopo il periodo del covid e quindi quest'anno riconfermiamo la nostra festa che si svolgerà a giugno l'otto il nove il dieci e l'undici giugno sempre a centinarola nel nel parco di via monfalcone quindi c'è anche un luogo che si presta bene a questo evento evento devo dire ricco di appuntamenti oltre che ricco di buon cibo ma andiamo per ordine iniziamo con la giornata dell'otto di giugno quindi si parte con che cosa la grande novità di quest'anno infatti è che la festa sarà di quattro giorni quindi abbiamo coinvolto il giovedì sera che sarà una serata praticamente dedicata esclusivamente ai giovani dai nostri incontri con tutti i consiglieri con la gente che insomma da mesi prepara questa festa abbiamo notato che alle feste di quartiere manca sempre una festa o comunque una serata o degli degli intrattenimenti dedicati ai giovani allora vogliamo provare quest'anno a coinvolgere i giovani c'è qui infatti Michele con noi che ha aderito ed è stato lo ringrazio pubblicamente perché è stato molto gentile perché non lo conoscevo e quindi è un ragazzo che è molto seguito adesso lui magari racconterà meglio che cosa succederà questo giovedì assolutamente sì allora Michele innanzitutto iniziamo a dire che tu sarai il dj resident della serata giusto sarò io precisamente anche un altro ragazzo dj m e che il mio diciamo dj di fiducia con cui faccio sempre le serate e 8 giugno si faremo una serata commerciale indicata a un pubblico giovane come dicevamo prima che manca in queste feste qua quindi ragazzi nostri un dj set allegro musica commerciale quella che ti fa muovere come come vogliamo dire cercare di prendere anche sia quella fetta di persone più adulte quindi non solo cercare anche di portare ragazzi ma comunque sia se c'è anche quell'adulto che di farlo divertire comunque sia non quindi non avere una mentalità chiusa su un genere che può essere solo quello di oggi quello che si trova in disco ma la musica deve essere per tutti quanti allora tu sei un giovanissimo lavoratore lo diciamo e hai la passione che comunque un sogno nel cassetto ed è sempre bello quando i giovani ecco tirano fuori come si dice il loro talento e si esprimono hai questa passione per la musica da quanto tempo è nata è nata da ormai posso dire che sono da sei anni si è nata con delle prime feste di compleanno feste private quindi tutto in piccolo non avrei pensato di arrivare a questi livelli e da qualche anno ormai sono anche dj resident nella discoteca nostra zona verdisco e da tre anni ormai faccio anche mie canzoni produco quindi ho inediti porto avanti questo percorso fino a che un giorno possa essere il mio lavoro principale sta per uscire il tuo inedito dicevamo prima la telecamera è spente si esatto a metà giugno uscirà l'ultimo inedito che si chiama flowers e poi ci saranno anche altre uscite remix vari che usciranno le varie piattaforme nel mentre bene allora ritorniamo alla festa abbiamo detto un format per far ballare tutti quanti quindi nella fattispecie che cosa ci farai ballare insomma da che anno a che anno quali generi potremmo potremmo generi sicuramente troveremo qualcosa a partire anche dagli anni 2000 o 90 magari anche qualche remix rimodernizzato ad oggi e se no ci butteremo anche sulle sulle hit commerciali del momento quindi magari come può essere una canzone italiana o qualcosa più rilevante al reggaeton qualcosa così comunque sempre un tema allegro ecco non nulla di troppo calzato se così vogliamo dire e questo riguardo la musica senti ma hai un dj a cui ti ispiri dj cui mi ispiro si dj cui mi spiro si chiama james hype inglese è stato lo seguo da quando praticamente non era nessuno è il mio idolo praticamente il mio stile di vita il mio modo di mixare tutto faccio molto riferimento a lui e magari in questo evento un po meno perché mi dovrei buttare su un altro genere che non è indicato per la festa che andremo a fare però se dobbiamo parlare del mio dj a cui mi ispiro è lui beh è bello però sapere che questi giovani sono anche molto duttili no che si adeguano anche alla circostanza per accontentare ecco un po un po tutti quanti quindi ti aspetti tanti giovani tanti tuoi coetane immagini faremo anche noi una pubblicazione per portare a questa novità e di creare un bel ambiente soprattutto perché quello che manca a noi anche in estate sono più feste così che nel locale singolo e poi michele mi piace questa cosa mi piace anche la scelta insomma da parte dell'associazione perché è giusto anche far apprezzare alle nuove generazioni comunque la festa di quartiere la famosa festa del paese che ha un valore proprio per tanti motivi ha un valore già di suo bene questa è la serata dell'otto si potrà mangiare comunque sì certo abbiamo deciso di aprire la cucina intorno alle 20 con piadine e qualcosa di semplice per diciamo per non sovraccaricare troppo la cucina la prima sera però ecco non faremo la trippa e non faremo neanche i fagioli diciamo da giovedì li faremo da venerdì e invece faremo ecco menù più semplice più per per tutti e quindi cerchiamo di invitare tutti come diceva anche michele proprio non solo il target giovane ma anche insomma gente che vuole ascoltare bella musica e seguire la serata quindi ci sarà anche la possibilità a parte insomma il piatto tipico la trippa i fagioli che si potranno degustare da venerdì ci saranno altre pietanze per soddisfare un po' i palati di tutti dai più piccoli ai più grandi allora entriamo nel dettaglio vediamo chi saranno gli ospiti perché poi ogni sera ci saranno anche degli ospiti musicali ci saranno delle attrattive anche per i più piccoli certo noi pensiamo sempre di coinvolgere in primis le associazioni del nostro quartiere perché ecco ci piace l'idea di condivisione che sia la festa proprio del quartiere quindi abbiamo comunque cercato di coinvolgere chi è più vicino a noi e quindi diciamo magari il programma del venerdì partiamo con alle 18 partiamo con la ginnastica ci sarà una ragazza che farà ginnastica al parco sempre di via monfalcone e poi alle 19 apriremo gli stand stand gastronomici che come abbiamo detto prima partiamo insomma con la trippa e i fagioli oltre che alla grigliata agli hamburger alle varie piadine che insomma quelle sono sempre nel nostro menù da tanto tempo e al verso le ore 20 ci sarà un'esibizione dell'olimpia ginnastica e che praticamente aprirà la serata danzante e che arriverà intorno alle 21 con a cura dell'associazione fanny dance presenterà musica latino americana per tutti anche qui per tutti e nel frattempo nel nel parco che fortunatamente è una location perfetta per questa per questa festa ci saranno varie iniziative dedicate ai bambini ci saranno giochi con universi paralleli un ragazzo enrico che l'abbiamo iniziato a coinvolgere l'anno scorso ed è un ragazzo che sempre molto disponibile e farà dei giochi di gruppo per i bambini alle ore 21 ci sarà anche la gincana con l'associazione la centina rolese anche loro come insomma si dice dal nome è un'associazione proprio del del nostro quartiere con cui collaboriamo in tanti eventi e poi saranno presenti anche il vespa club vespa club che ha la sede proprio attaccata proprio al parco e quindi saranno presenti le loro vespe magari anche qualche qualche sorpresa è molto interessante il coinvolgimento insomma di tutto il quartiere in ogni sua sfumatura poi la giornata del sabato sabato abbiamo coinvolto l'associazione la centina rolese che è un'associazione sportiva di bicicletta e allora loro praticamente insieme a loro abbiamo studiato un un progetto che sarà portato avanti proprio sabato pomeriggio alle due e mezza parte è il tour delle colline mountain bike quindi diamo la possibilità a chi ha la bicicletta adatta per fare un percorso di enduro di partire dalla zona festa e di fare un percorso proprio nelle nostre colline abbiamo proprio sopra centina rola ci sono delle colline bellissime e andremo a fare un percorso con loro che sono praticamente abilitati per fare questa passeggiata bene e ogni sera poi ci sarà anche ad animare il pubblico un'orchestra diversa quindi ci saranno tante orchestre che faranno ascoltare musica daranno la possibilità di ballare assolutamente sì e sempre alle 19 apriremo gli stand gastronomici e seguirà una la musica alle ore 20 con trainer monica che faranno balli di gruppo e poi alle 21 ci sarà l'orchestra mirage bene nel frattempo sempre attività laboratoriali con il brucco la farfalla che è una un asilo è privato che c'è sempre la sede ha sempre a centina rola dove faranno laboratori proprio per bambini e alle 19 ci sarà la dimostrazione dell'unità cinofila soccorso nautico con i cani la serata del sabato poi vedrà anche la partecipazione verso le 22 del gruppo storico la pandolfaccia benissimo quindi proprio il gruppo che rappresenta insomma la nostra la nostra città allora un po' di folklore che non guasta mai domenica domenica partiamo sempre con la ginnastica un pochettino di movimento fa sempre bene quindi prima di mangiare facciamo un po' di attività fisica quindi abbiamo ginnastica dalle 17 45 alle 18 30 poi avremo una lezione gratuita di yoga sempre con un'associazione madras yoga che ha la sede a centina rola e poi abbiamo come sempre l'apertura degli stand gastronomici per le ore 19 avremo poi un'associazione che si chiama adesso qui mi scuso del della pronuncia che sono legata associazione scinger con il nostro maestro alessandro aguzzi che è un abitante di centina rola che ha questa questa associazione e farà un po di intrattenimento e di esibizione sia farà giocare i bambini e poi farà un po di esibizione della loro attività alle 20 e 15 ci sarà mattia diamantini con la sua scuola con un'esibizione e poi la serata si conclude con la serata musicale con vivi la musica e con balli un po per tutti e una cosa che volevo dire è che il vespa club sarà presente nelle serate con con le loro vespe e quindi magari ci porteranno anche delle sorprese allora ricordiamo che l'ingresso è gratuito assolutamente sì e le persone che vogliono partecipare all'iniziativa per esempio delle mountain bike oppure chi vuole coinvolgere i bambini nei laboratori hanno delle possibilità di contattarvi oppure ci si può presentare iscriversi al momento anche per i laboratori di più piccoli per esempio come funziona allora i laboratori per i più piccoli sono tutti gratuiti e al momento non c'è bisogno di un'iscrizione quindi il bambino arriva con il genitore e fanno il laboratorio senza nessun problema tutte le attività anche la gincana è aperta a tutti logicamente bisogna portare la biciclettina e sarà gratuito tutte le attività sono gratuite anche il tour della collina e mountain bike è completamente gratuito e abbiamo delle indicazioni da dare su questo tour perché ecco è un percorso di media difficoltà quindi non è adatto a tutti è adatto a persone esperte e abbiamo la necessità di avere il casco obbligatorio e una bicicletta adatta al percorso quindi bisogna avere una mountain bike adatta abbiamo anche due riferimenti telefonici se vuoi li posso dire certo che sì abbiamo Giovanni Felici 329 9532566 e Rodolfo 335 6528 340 a questi numeri potete telefonare per avere informazioni e per iscrivervi giusto per darvi insomma la maggiore informazione possibile io devo dire che avete pensato a tutto nel minimo dettaglio quindi c'è alle spalle un'organizzazione notevole e vorrei che tu ringraziassi insomma tutti i volontari che poi hanno dato vita a questo evento certo assolutamente sì noi già partiamo a mesi e mesi nel programmare questa questa festa siamo convinti che vivere il quartiere significa creare degli eventi dove socializzare dove stare insieme dove coinvolgere le realtà proprio del quartiere quindi noi durante tutti gli eventi che facciamo durante l'anno cerchiamo il coinvolgimento degli abitanti e non solo è degli abitanti di centinarola ma proprio di tutta la città esatto perché è la festa del quartiere per il quartiere per la città ospita tutti quanti e questo è molto bello allora io direi di passare la parola a Michele per invitare tutti i giovani che vorranno ascoltare la tua musica facciamo un invito come si deve guardando la telecamera dai sì esatto ci vediamo allora l'otto giugno 2023 per passare una serata diversa e soprattutto per cercare quegli eventi che mancano nella nostra città che bello questa nota giovane ci voleva e sono sicura che sarà una iniziativa poi da ripetersi negli anni assolutamente sì speriamo che la serata vada bene che i ragazzi capiscano insomma il nostro modo di coinvolgerli noi vorremmo sempre avere come lo abbiamo con i bambini come lo abbiamo con le persone più adulte o con le famiglie ecco cercare di avere nelle nelle feste anche uno spazio per loro e quindi è molto importante benissimo io allora ringrazio te giovanna grazie a te grazie Michele in bocca al lupo anche per la tua carriera da dj perché insomma i desideri vanno come dire poi realizzati devo dire che tu sta prendendo vita grazie a voi per averci seguito grazie all'associazione viviamo centinarola grazie a riccardo sora in regia sagra la trippa e di fagioio 8 9 10 e 11 giugno siete tutti invitati io vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi ciao grazie a tutti